Nelle scorse settimane sono circolate notizie che parlano di Amazon che irrompe nelle reti 5G europee, Amazon la mossa nel 5G in Europa, Amazon entra nel 5G europeo. Insomma, che cosa sta succedendo? Che cosa significa tutto questo? Perché Amazon potrebbe avere un ruolo nelle reti 5G? Per capirlo dobbiamo fare, come al solito, qualche passo indietro per capire qual è la novità del 5G che sta portando a questo fenomeno. Se infatti pensiamo alle vecchie generazioni di reti mobili, senza neanche andare troppo indietro ma banalmente pensando al 4G o LTE, ecco che l'architettura di queste reti era composta da blocchi hardware dedicati allo svolgimento di una determinata funzione di rete, con quindi sia la parte hardware che la parte software accoppiati all'interno di un singolo dispositivo per lo più, il più delle volte, proprietari. E quindi quando l'operatore si trovava nella situazione di dover realizzare la propria rete 4G, ecco che una volta selezionato il produttore con cui l'avrebbe realizzata, quindi Nokia, Ericsson e così via, avrebbe utilizzato i dispositivi di Ericsson, per esempio, con il software Ericsson installato su quei dispositivi per svolgere le funzioni necessarie, per esempio la gestione della registrazione, dell'amabilità e dell'autenticazione degli utenti svolta dall'MMA, il Mobility Management Entity, o ancora il punto d'accesso tra la rete LTE e le reti internet o private, così come l'assegnazione degli indirizzi IP, per esempio, svolta dal cosiddetto P-Gateway, Packet Data Network Gateway. Con il 5G questa situazione però cambia drasticamente perché l'architettura di rete del 5G viene definita cloud native e quindi questo significa, nel concreto, che tutte le funzioni svolte dai vari dispositivi di cui abbiamo citato qualche esempio precedentemente, vengono di fatto scomposte dall'hardware su cui vengono eseguiti, permettendo quindi così di avere una suite, per così dire, di funzioni software che permettono di far funzionare correttamente una rete 5G che possono però essere installate su hardware generico, quindi banalmente su dei server che in base alla funzione che gli verrà installata svolgeranno poi un ruolo specifico all'interno della rete. Quindi come potete vedere da questa tabella, ciò che veniva fatto nel 4G dall'MME, per esempio, nel 5G viene fatto dall'Access and Mobility Management Function, AMF, quindi esclusivamente da una funzione che può essere installata su qualsiasi tipo di server, così come ciò che faceva il componente P-Gateway viene fatto dalla User Plane Function e dalla Session Management Function, anche in questo caso due funzioni che potranno essere installate su infrastrutture cloud generici per svolgere queste determinate funzioni. Ed è proprio a partire da questa evoluzione da 4G a 5G che viene quasi naturale chiedersi ma se la rete 5G non deve essere più composta da hardware specifici, ma di fatto si tratta solo di software installabile all'interno di un qualsiasi data center? Perché io, operatore, non posso pensare di sfruttare gli enormi e potenti data center che le grosse big tech, come per esempio Amazon e Microsoft, hanno già a disposizione per installare su quei data center le funzioni di una rete 5G? Una domanda questa che, in effetti, gli operatori si sono già cominciati a fare da qualche anno al punto che oggi l'utilizzo di data center pubblici, quindi quelli delle grandi big tech, per la realizzazione di reti 5G, sta diventando quasi un trend e una tendenza da osservare all'interno del settore. E per fare degli esempi, già nel settembre 2020, Telefonica aveva annunciato che avrebbe utilizzato il cloud di Amazon AWS per l'implementazione di una rete core 5G utilizzata per fornire soluzioni avanzate a imprese e settori industriali. Nel marzo del 2021 è stato poi il turno di Telenet Belgium che scelse Google Cloud per l'implementazione della rete core 5G Nokia e ancora nel giugno del 2021 AT&T ha annunciato di spostare la sua rete mobile 5G sul cloud di Microsoft Azure. Tre esempi che sono i principali ma non gli unici, che però mi permettono di darvi l'idea di come all'interno di questa partita siano già presenti da qualche anno tutti i principali player del cloud, Amazon, Microsoft e Google. Anche se poi si prevede che questa sarà una tendenza sì in crescita nei prossimi anni, ma che non si prevede arriverà almeno nel breve a rappresentare la maggioranza delle realizzazioni di reti 5G core. Non a caso un recente studio del loro gruppo prevede che i provider cloud hyperscaler, quindi appunto Amazon, Microsoft e Google, riusciranno ad accaparrarsi il 9% del mercato del carico delle reti 5G stand alone entro il 2027, con un tasso di crescita composto dai ricavi dei prossimi 5 anni che sarà sì pari al 64%, ma che appunto a livello di quote di mercato rimarrebbe comunque intorno a circa un 10%. Anche se poi è bene sottolineare che in questo senso già ora esistono delle applicazioni veramente molto spinte di questo concetto di installazione e realizzazione di reti 5G basate su cloud pubblici. E il caso a cui sto facendo riferimento è quello di Dish negli Stati Uniti, che nel 2021 ha annunciato di realizzare da zero la propria rete 5G nel cloud di Amazon AWS, una rete 5G cloud native completa con tutte le funzioni che si presenta in questa maniera qui, quindi con un'architettura gerarchica logica composta da centri dati nazionali, NDC, centri dati regionali, RDC e centri dati breakout edge, BEDC, che per l'appunto vengono definite logiche perché si tratta sempre di data center, sia a livello nazionale che regionali, che più a livello locale, ma la differenza sta in ciò che installo in questi data center e che li rendono quindi in un certo senso una parte poi funzionale della rete 5G. Per esempio un aspetto interessante è che nelle zone locali, quindi nelle BEDC, è installata la funzione del piano utente, che permette di uscire direttamente su internet attraverso quel local breakout che vedete rappresentato in alto, senza passare dalle zone regionali o nazionali, così da garantire delle prestazioni migliori, soprattutto in termini di latenza. E un altro aspetto interessante da notare è che sempre all'interno di queste zone locali è presente quel 5G RAN CU. Ora, qualcuno di voi potrebbe chiedersi, ma cosa ci fa all'interno della rete Core un componente della rete RAN, quindi della rete d'accesso, quella che si dovrebbe trovare oltre quella linea di demarcazione che è stata postata per l'appunto la rete Core e la rete d'accesso? Beh, questo è un aspetto interessante perché la rete di DISH, oltre a portare questa grossa innovazione della realizzazione di una rete 5G basata completamente su un cloud pubblico, implementa anche l'utilizzo dell'architettura Open RAN, che come state vedendo da questa rappresentazione, ha permesso negli anni di arrivare non solo alla virtualizzazione delle funzioni della rete d'accesso, che di fatto è lo stesso concetto che abbiamo raccontato finora all'interno del video, quindi la possibilità di virtualizzare, quindi far diventare software ciò che un hardware dedicato solitamente fa, permettendo però così anche la separazione delle singole funzioni. E quindi se nei siti Legacy avevamo un solo apparato, la BBU, che svolgeva tutte le funzioni con un apparato dedicato e proprietario, ecco che con il concetto di Open RAN rimane solo la RU e poi le funzioni della rete RAN vengono scomposte nella DU e nella CU, che tornando all'architettura di rete di DISH permettono di distribuirle, tra virgolette, a piacere, all'interno dell'architettura di rete, facendo sì che la RU rimanga chiaramente dove è installato il sito radio, la DU possa essere installata o ai piedi della torre radio, oppure all'interno dei centri dati locali, gli LDC, e che invece le funzioni di CU possano essere ospitate addirittura a livello di zona locale della rete core, così da avere di fatto visibilità e controllo totale e anche coordinato di tutte le antenne 5G dispiegate in quell'area locale. E se DISH è stato il primo operatore a realizzare da zero una rete 5G basata sul cloud pubblico, in questo caso di AWS, ecco che invece la notizia di questi giorni, che riguarda anche il nostro territorio europeo, è che O2 Telefonica, in Germania, sarà invece il primo operatore a migrare i propri clienti da una rete 5G realizzata sul proprio cloud, quindi sul cloud di O2 Telefonica, verso una nuova rete 5G realizzata questa volta sul cloud, anche in questo caso di AWS, che almeno al momento è stata progettata per supportare fino a un milione di clienti, in quanto O2 Telefonica, essendo già in possesso di una rete 5G sul proprio cloud privato, vuole prima verificare quali siano effettivamente i vantaggi e le prestazioni di questa soluzione, prevedendo, come dichiarato dallo stesso CTO di Telefonica, di spostare almeno il 30-40% dei propri clienti sul cloud di Amazon entro il 2025-2026. Sì, ok, ma tutto bello e anzi chiaro il fatto che in questo modo gli operatori potranno risparmiare molto nella realizzazione di propri data center per implementare reti 5G stand-alone, evolute e geograficamente diffuse, ma non è che gli operatori telco stanno perdendo ancora un altro pezzo a favore di queste big tech dopo aver già in un certo senso perso la partita dei servizi? Beh, in effetti il dubbio c'è, il fatto di in un certo senso delegare la gestione dei propri clienti a queste grosse big tech potrebbe non convincere fino in fondo, anche perché è da capire il livello di controllo che gli operatori riuscirebbero a mantenere in una relazione di questo tipo delle prestazioni della propria rete core e non solo 5G, così come sarebbe da approfondire tutti i temi legati agli obblighi normativi e di fornitura dei servizi di emergenza statali che tutte le telco devono essere in grado di garantire e che dovrebbero quindi di conseguenza essere garantite anche nel caso di utilizzo di un cloud pubblico. Così come sarebbe anche da valutare il tema del lock-in, ossia di un fenomeno di dipendenza da questi soggetti che sembra ricordare un po' tutto il discorso che in questi anni si è fatto a riguardo dei produttori di apparati, cosa che negli anni proprio con i movimenti di Open Run e non solo si sta cercando di allentare, ma con queste prospettive rischio che gli operatori passino dalla padella alla brace, quindi si liberino del lock-in da parte dei produttori di hardware, ma si ritrovino poi in una situazione di lock-in con le big tech che gli offrono il cloud pubblico su cui realizzare le proprie reti. Ed è un po' per tutti questi motivi che infatti la soluzione che sarà probabilmente quella target di questo tipo di evoluzione non sarà tanto l'utilizzo in toto ed esclusivo di un cloud pubblico, bensì di soluzioni di cloud ibride, ossia delle soluzioni basate sia sull'utilizzo del cloud pubblico di Amazon, Google e Microsoft, ma anche sul contemporaneo l'utilizzo di un cloud privato degli operatori, in modo tale che gli operatori possano mantenere la giusta attenzione verso il cliente, verso lo sviluppo delle reti e l'offerta dei servizi critici di emergenza. E dall'altra i grossi provider del cloud possano invece offrire tutta quella gestione agile ed elastica e anche diffusa a livello geografico che li contraddistingue, creando quindi così un ecosistema che più che per starsi piedi o creare spiacevoli situazioni di lock-in, crei invece un vero e proprio ecosistema in cui tutti gli attori coinvolti riescono a mettere sul piatto le proprie capability per far sì che il servizio in sé, quindi il 5G, possa funzionare al meglio e forse anche come è stato inizialmente pensato, ossia come una piattaforma di servizio aperta a tutti quegli attori del mercato telco e IT che possano contribuire a farlo funzionare al meglio. Queste quindi tutte le prospettive aperte dalla cloudificazione delle reti mobili portata dal 5G, un trend che come abbiamo visto è già partito da qualche anno ma che ora sta cominciando a far parlare di sé anche per l'arrivo in Europa di questo tipo di soluzioni e quindi staremo a vedere se per davvero la soluzione target e prediletta soprattutto dagli operatori potrà essere quella del cloud ibrido in modo tale da sfruttare a pieno tutte le competenze dell'ecosistema per arrivare, perché poi l'obiettivo finale è sempre quello, ad offrire ai clienti finali, consumer ma anche business, quel vero 5G di cui abbiamo tanto parlato negli scorsi anni e che al momento non si è purtroppo ancora visto. Grazie. 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 Grazie.